La mia vocazione, l'amore, di Teresa de Lisieux, tratto da Storia di un'anima, settembre 1896. Oh mia cara sorella, mi chiedete di darvi un ricordo del mio ritiro, ritiro che forse sarà l'ultimo, poiché nostra madre lo permette, è una gioia per me venire a intrattenermi con voi, che siete due volte mia sorella, con voi che mi avete prestato la vostra voce, promettendo a nome mio che volevo servire solo Gesù quando non mi era possibile parlare. Cara piccola madrina, è la bambina che voi avete offerto al Signore che vi parla stasera, è lei che vi ama come una figlia sa amare sua madre. Soltanto in cielo conoscerete tutta la riconoscenza che trabocca dal mio cuore. Oh mia cara sorella, vorreste sapere i segreti che Gesù confida vostra figlioletta? Questi segreti egli ve li confida, lo so perché siete voi che mi avete insegnato a raccogliere gli insegnamenti divini. Tuttavia, cercherò di valbettare qualche parola, anche se sento che è impossibile per la parola umana esprimere cose che il cuore umano riesce appena a percepire. Non crediate che io nuoti nelle consolazioni, o no? La mia consolazione è di non averne sulla terra. Senza mostrarsi, senza far udire la sua voce, Gesù mi istruisce nel segreto, non per mezzo di libri, perché non comprendo ciò che leggo, ma piuttosto con una parola come questa, che viene a consolarmi nel mezzo dell'orazione, dopo essere rimasta nel silenzio e nell'aridità. Ecco il maestro che ti do, egli ti insegnerà tutto quello che devi fare. Voglio farti leggere nel libro della vita, dove è contenuta la scienza dell'amore. La scienza dell'amore, oh sì, questa parola risuona dolcemente all'orecchio della mia anima. Non desidero che questa scienza... Pur avendo dato per essa tutte le mie ricchezze, ritengo, come la sposa del cantico sacro, di non aver dato niente. Capisco bene che solo l'amore può renderci graditi al buon Dio, che questo amore è il solo bene a cui ambisco. Gesù si compiace di mostrarmi l'unica via che conduce a questa fornace divina. Questo cammino è l'abbandono del bimbo piccolo che si addormenta senza paura nelle braccia di suo padre. Se qualcuno è umile, venga a me, ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo stesso spirito d'amore ha detto ancora che la misericordia è accordata ai piccoli. Nel suo nome il profeta Esaia ci rivela che nell'ultimo giorno il Signore condurrà il suo greggio al pascolo, radunerà gli agnellini e li stringerà al petto. E come se tutte queste promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo ispirato già si immergeva nelle profondità eterne, esclamò a nome del Signore, Come una madre accarezza il suo bambino, così vi consolerò. Vi porterò il mio petto e vi accarezzerò sulle mie ginocchia. Oh, cara madrina, dopo simili parole c'è solo da tacere, da piangere di gratitudine e d'amore. Ah, se tutte le anime deboli e imperfette sentissero ciò che prova la più piccola delle anime, l'anima della vostra piccola Teresa, neanche una dispererebbe di arrivare in cima alla montagna dell'amore, poiché Gesù non chiede grandi gesti, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza, poiché, ha detto nel Salmo 49, Non ho alcun bisogno dei capri delle vostre greggi, perché tutte le bestie della foresta e le migliaia di animali che passano sulle colline mi appartengono. Conosco tutti gli uccelli delle montagne. Se avessi fame non lo direi a voi, perché la terra e tutto ciò che contiene è mio. Dovrei mangiare la carne dei tori e bere il sangue dei capri, immolate a Dio sacrifici di lode e azioni di grazie. Ecco, dunque, tutto ciò che Gesù esige da noi non ha affatto bisogno delle nostre opere, ma soltanto del nostro amore, perché questo stesso Dio che dichiara di non aver bisogno di dirci sia fame, non ha paura di mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Aveva sete, ma, dicendo dammi da bere, era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo chiedeva. Aveva sete d'amore. Ah, sento più che mai che Gesù è assetato, non incontra che ingrati e indifferenti fra i discepoli del mondo, e presso i stessi discepoli trova, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito. Sorella cara, quanto siamo felici di comprendere gli intimi segreti del nostro sposo. Se voleste scrivere tutto quello che sapete a riguardo, avremo delle belle pagine da leggere, ma lo so, voi preferite conservare in fondo al vostro cuore i segreti del re. E a me dite che è degno di onore rendere pubbliche le opere dell'Altissimo. Trovo che abbiate ragione a mantenere il silenzio, ed è unicamente per farvi piacere che scrivo queste righe, perché sento la mia incapacità ripetere, con parole umane, i segreti del cielo, e poi, dopo aver scritto pagine e pagine, scoprirei di non aver ancora iniziato. Ci sono tanti orizzonti diversi, tante sfumature svariate nell'infinito, che solo il pennello del pittore celeste potrà, dopo la notte di questa vita, darmi colori capaci di dipingere le meraviglie che svela l'occhio della mia anima. Mia cara sorella, mi avete chiesto di scrivermi il mio sogno, e la mia piccola dottrina, come la chiamate. L'ho fatto nelle pagine che seguono, ma così male che, penso sia impossibile, che le comprendiate. Forse troverete le mie espressioni esagerate. Perdonatemi. Fa parte del mio stile poco piacevole. Vi assicuro che non c'è alcuna esagerazione nella mia piccola anima, che lì tutto è calmo e sereno. Scrivendo, è a Gesù che parlo, ciò mi è più facile per esprimere i miei pensieri, cosa che, ahimè, non impedisce che essi siano espressi tanto male.